Aiuto sì. Eccoci a Il Signore dei Gianfuretti, un film proiettato lungo le comunalie di Zeri. Oggi sembra che li ho seminati. Probabilmente tutto è cozzente culo perché se vedi bene ve l'ho visto e uno è quello lì perché io non ne ho altri. Franci è convinta che io... Mi guarda, mi guarda, mi guarda bene. Facciamoci la foto, va? Va bene, allora salutiamo così. Non è particolarmente grande che li chiediamo filmato. Franci, un commento? Eh, la giornata va bene. Che culo. Per Marco, sì. Per noi. Ammazzato il tuo figlio. Va bene, su questa considerazione ovvia e indiscutibile direi di chiudere qui. A dopo.